È stato poche settimane fa in un comizio che poi si è rivelato un cluster, come si dice, un focolaio, a latina se non sbaglio. Come ha funzionato il tracciamento per la sua esperienza personale, visto che era lì? E immagino siete stati tracciati tutti, per capire. Allora, le do una notizia innanzitutto. Non era un cluster, nel senso che hanno fatto tutti quanti i drive-in opportuni, sono usciti soltanto due persone che hanno avuto il Covid da quell'evento e sono l'onorevole Zicchieri, che ha incontrato quella persona che ha avuto questo virus anche nei giorni successivi, e un altro consigliere comunale, Tocci, che ha incontrato anche lui questa persona nei giorni successivi. Quindi la mascherina funziona, questo non è il che dice Turricone, lo dice l'Asda di Latina, insomma, non vorrei... E anzi, sono un po' deluso dagli organi di stampa che hanno voluto in qualche modo esagerare, perché c'è la Salvini, come sappiamo benissimo, che il Covid è un elemento che non ha una cosa ben precisa di come si rasmette, anzi, lo ha e non è possibile fermarlo. Comunque sia, anche quel cluster che è stato tanto decantato, io ricordo trasmissioni televisive, dove in qualche modo venivano annunciate che Salvini aveva la febbre, addirittura che era una specie di untore, ecco, quel cluster non è stato un cluster. No, ma a me interessava sapere il tracciamento, cioè se lei era stato raggiunto con tutta la filiera che noi ormai conosciamo, alcuni dicono che funziona, altri no. Poi dipende naturalmente da... Ma io le dico quello che ho vissuto personalmente, avendo contatti con l'As di Zia Dina, essendo io anche un parlamentare del luogo, sono stato intercettato, ma addirittura ho fatto un viaggio di ritorno in auto invece che in aereo, perché non volevo in qualche modo non essere nelle stesse regole. Poi mi hanno detto il giorno dopo che praticamente non era un soggetto che dovevo fare tamponi o niente. Nonostante tutto, siccome io penso che sia giusto, ci sono fatti tutti quanti i tamponi. Lì se l'hai fatto tampone tu di Contra, se l'hai fatto, pensi, anche il candidato sindaco Giuliani, se l'hai fatto tutti i deputati che c'erano, tutti negativi. Ecco, meno male. Vedo là, allora ci sono delle... Però mi perdoni, però mi perdoni, perché lei è vero che mi ha chiesto questo, mi ha mai detto che c'era un cluster, io lo ripeto, non c'era un cluster. Va bene, comunque c'era una situazione che andava tracciata, no, per tutti quelli che avevano partecipato. No, no, certo, però insomma, di solito è così, si tiene sotto osservazione tutte le persone che fanno parte, no? Insomma, non c'è niente di male, anzi, per fortuna funziona così. Alcune cose piacciono, altre meno. Beh, allora...